L'inaugurazione dell'Enel X Store dimostra una crescente attenzione verso la mobilità elettrica. Su questo fronte Roma è pronta per essere una città del futuro. Oggi per la prima volta inauguriamo questo Enel X Store. Enel X mette quattro colonnine di ricarica super veloci. Roma chiaramente è pioniera da questo punto di vista. Stiamo diventando una città non solo sempre più smart ma anche sempre più sostenibile e che guarda l'elettrico. Oltre a queste ricariche super veloci stiamo infatti infrastrutturando la città con tantissime colonnine normali, standard, proprio per consentire piano piano di modificare il nostro parco auto e diventare sempre più elettriche. Accanto a queste è sempre in incremento la mobilità in sharing, quindi sia auto, sia biciclette, sia monopattini. Abbiamo visto che già solo nell'anno 2000 abbiamo avuto oltre 2 milioni di corse con i mezzi sharing. Quindi questo vuol dire che il futuro è già qui.